Il Miglio della Memoria è un nuovo sistema culturale finalizzato alla valorizzazione dell'immenso patrimonio di archivi e biblioteche, oltre 2 milioni di volumi e 120 chilometri lineari di documenti d'archivio, conservato nell'area delimitata dai tre decumani del centro antico di Napoli. Il protocollo di intesa, il Miglio della Memoria, proposto dalla Superintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, coinvolge 18 prestigiosi istituzioni culturali pubbliche e private del centro antico di Napoli. Ascoltiamo Gabriele Capone, Superintendente Archivistica e Bibliografica della Campania. È un itinerario culturale che mette insieme 18 istituzioni, biblioteche e archivi del centro antico di Napoli. Creiamo una biblioteca e un archivio diffuso che passa attraverso la valorizzazione non solo del contenuto, ma anche di questi straordinari contenitori. Questi archivi e biblioteche, oltre a possedere un patrimonio immenso, sono delle strutture architettoniche fantastiche. L'intesa è denominata il Miglio della Memoria proprio per sottolineare l'esiguità dell'estensione territoriale nella quale, però, è custodito un patrimonio unico al mondo. Tenuto conto delle finalità e degli obiettivi, il Comune di Napoli è aderito al protocollo, sottoscrivendolo nella persona del sindaco Gaetano Manfredi. È un'iniziativa molto importante dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista identitario della nostra città. Abbiamo un patrimonio archivistico straordinario, metterlo in rete, ma soprattutto metterlo a disposizione dei napoletani e dei turisti, rappresenta un passo in avanti molto importante per rafforzare non solo la memoria della nostra città, ma il presente e il futuro.